Bene, siamo con Fabio, un nostro paziente, che ci vuole dire un po' come si è trovata nel nostro studio. Indubbiamente mi sono trovato molto bene, ma non perché io sia qui a fare questo messaggio, però in realtà ho conosciuto questo studio medico grazie a un amico che si era trovato bene e io avevo un problema omolare che era disperato, il vecchio dentista voleva soltanto toglierlo e prima di farvi questa cosa qui ho deciso di sentire un'altra campana e il dottor Vinci Guerra mi ha dedicato tanto tempo ed è riuscito a salvarmi il dente con l'immensa gioia. Quindi l'esperienza è stata direi positiva, possiamo dire così? Molto, è stata molto positiva ed è il motivo per il quale sto facendo questo messaggio in quanto consiglio lo studio a altre persone che si avvicinano per la prima volta a questa struttura. Grazie. 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 Grazie.